Salve a tutti. In questo momento mi veniva da pensare che è una cosa preziosa il fatto di poter lasciare del tempo a Dio, cioè dedicargli un tempo nel quale Dio può comunicare con noi. Perché direi che è interessante ciò perché Dio molto probabilmente vuole poter comunicare con noi, comunicare i suoi pensieri proprio a noi personalmente. Però molto probabilmente siamo noi che non siamo disponibili a Dio, non permettiamo a Dio di poter comunicare a noi i suoi pensieri. Non siamo veramente disponibili e non essendo disponibili Dio non ci può onorare della sua parola. Anche perché se fossimo veramente disponibili, Dio ci onorerebbe subito della sua parola. Faccio un esempio perché si possa comprendere. C'era una persona, cioè Zaccheo, che aveva nel cuore il desiderio di conoscere Gesù. Allora Gesù, sapendo di questo suo desiderio che aveva nel cuore, Gesù gli ha potuto dire oggi io vengo a casa tua. Allora Dio conosce perfettamente tutti gli uomini e conosce perfettamente la disponibilità che gli uomini hanno verso di Dio. Dio conosce molto bene quanto noi siamo disponibili a Lui. E se noi siamo disponibili realmente a Lui, Lui ci onorerà della sua presenza. Credo che non sia stato per caso che Gesù entrò in casa di Marta e Maria. Credo che Gesù non entrò lì per caso, ma sapeva che lì c'era una donna, cioè Maria, che era disposta ad ascoltare le cose che Gesù aveva da dire. E di fatti Gesù entrò in quella casa e Maria si pose ai piedi di Gesù e lo ascoltava. Però è sempre Dio che ci fa vedere che sua sorella Marta, invece, era affacendata intorno a molti servizi. Allora, è Dio che ci fa vedere che sua sorella non era totalmente disponibile a ricevere la parola di Gesù. Allora Dio conosce perfettamente se noi siamo disponibili a ricevere la sua parola. Dio ne ha proprio una conoscenza perfetta. Dio conosce perfettamente, conosce perfettamente noi, conosce perfettamente la nostra mente, conosce perfettamente il nostro cuore, conosce perfettamente quanto noi siamo disponibili a Lui. E credo che Dio ci fa riflettere anche proprio sulla storia di Marta e Maria, che Dio ci fa vedere che Maria era sicuramente disposta ad ascoltare i discorsi di Gesù. Invece, sua sorella era impegnata nel fare dei servizi. Credo che sia Dio che vuole che noi ragioniamo sopra queste cose, perché ci possiamo rendere conto del fatto che se noi siamo veramente disponibili a Lui, Lui ci parlerà e le sue parole saranno di sicuro dolci, di sicuro buone. Però il fatto che Dio ci fa vedere che la sorella di Maria era impegnata nel fare dei servizi, mentre che Gesù gli era lì in casa, ciò ci fa capire che non era totalmente disponibile. ci fa comprendere che non aveva nel suo cuore il desiderio di ascoltare la parola di Dio. Allora è Dio che ci fa vedere che c'è la sua parola e che se noi abbiamo in cuore di volerlo ascoltare, noi potremmo ascoltarlo. Ma è sempre Dio che ci insegna, ci fa vedere che forse, forse, noi potremmo anche somigliare a Marta. Pur essendo Marta una credente, una persona, diciamo, relativamente ben disposta verso Dio, in quel giorno, quando Gesù gli entrò in casa, in quel momento, non era totalmente ad ascoltare, non era totalmente disponibile ad ascoltare la voce di Dio. Allora Dio è consapevole, Dio conosce, Dio conosce perfettamente il fatto se noi vogliamo veramente ascoltare la sua parola. E se noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, abbiamo realmente uno spazio per Lui, se noi nel nostro cuore vogliamo realmente onorarlo, se noi vogliamo veramente riceverlo, Dio, il creatore del cielo e della terra, ci parlerà. E la sua parola, La sua parola è vita. Perché Gesù disse, le mie parole sono spirito e vita? Chiediamoci, ma non è che ascoltando la parola di Dio accade qualcosa di speciale? Poniamoci questo quesito, ma non è che ascoltando la parola di Dio accade qualcosa di speciale? Non è che forse è proprio proprio vero che la parola di Dio è spirito e vita? Allora, è Dio stesso che ci dà di vedere nella Bibbia che quando Lui parla le sue parole sono speciali. Sono veramente speciali. Perché Maria, nell'ascoltare Gesù, Gesù alla fine gli disse che aveva scelto una buona parte, la buona parte che non le sarebbe stata tolta. Il fatto di ascoltare la parola di Dio di sicuro aggiunge qualche cosa alla nostra vita. Di sicuro! Altrimenti Gesù non avrebbe detto le mie parole sono spirito e vita. E' Dio stesso che ci fa vedere che sono state beate quelle persone che hanno ricevuto la sua parola. E' Dio stesso che ci dà di vedere che le sue parole non sono uguali alle parole degli uomini. Le due persone che erano sulla via di Emmaus che ascoltavano la parola di Dio compresero che la parola di Dio era diversa dalle loro parole. Perché la parola di Dio aveva causato qualche cosa nel loro cuore. E loro dicevano non ardeva il cuore nostro mentre egli ci parlava per via. allora credo che sia importante che dentro di noi ci sia realmente uno spazio per Dio. Quando Gesù entrò in casa di Marta e Maria Maria aveva uno spazio nel suo cuore per Gesù per la parola di Dio e Gesù gli poté parlare la poté arricchire si viene arricchiti dalla parola di Dio è Dio stesso che ci fa vedere questo si viene onorati Dio nella Bibbia ci dà di vedere che onora tutte le persone che lo hanno ascoltato e invece le persone che hanno rifiutato di ascoltarlo Dio ci fa vedere che non erano nella giusta posizione allora direi che è molto importante che noi abbiamo uno spazio per Dio è molto importante e è come il fatto di avere uno spazio per Dio è come avere veramente riguardo di se stessi perché mi viene in mente che c'è un passo nei proverbi che dice chi mi trova trova la vita ma c'è anche un altro passo sempre nei proverbi che dice tutti quelli che mi odiano amano la morte è scritto così nei proverbi tutti quelli che mi odiano amano la morte e chi mi trova trova la vita allora vedo che va pienamente d'accordo con quello che Gesù disse Gesù disse le mie parole sono spirito e vita allora Dio conosce allora molto molto bene chi è disposto a ricevere la sua parola e darà vita darà vita avrà avrà delle parole di vita avrà delle parole di ricchezza per tutti quelli che lo ricevono allora si capisce chiaramente per mezzo della Bibbia che è una grandissima cosa poter ricevere la parola di Dio uno potrebbe studiare una vita potrebbe leggere la Bibbia a tutto andare potrebbe anche impararla tutta quanta a memoria e andrebbe benissimo è chiaro non dico di no però la Bibbia Gesù diceva una cosa a delle persone gli diceva voi investigate le scritture pensando di avere vita per mezzo di esse per mezzo delle scritture ed esse cioè le scritture parlano di me eppure voi non volete venire a me per avere la vita quelle parole di Gesù ci fanno comprendere che uno potrebbe studiare tutta la Bibbia potrebbe imparare a memoria ma non è che la Bibbia ti dia vita ti dà vita è Gesù che ti dà vita non è la lettera che ti dà vita ma è lo spirito che ti dà vita e Gesù disse le mie parole sono spirito e vita le scritture parlano di me eppure voi non volete venire a me per avere la vita la Bibbia rende testimonianza della presenza di Dio se la Bibbia non ci porta a un incontro personale con Dio vuol dire che non l'ascoltiamo bene perché la Bibbia ci insegna la Bibbia ci fa comprendere che bisogna essere veramente ben disposti verso Dio il creatore del cielo della terra e riceverlo perché la Bibbia fa comprendere che Dio è vivente la Bibbia testimonia di Dio fa sapere quello che Dio ha fatto fa sapere quello che Dio fa e fa sapere che Dio è vivente oggi anche perché sempre la Bibbia dice che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è allora diciamoci questa cosa qui ma se Dio c'è se Dio c'è veramente se Dio c'è non è forse veramente buono essere ben disposti verso di Lui e ricevere la sua parola come fece Maria è Dio che ci fa sapere che le persone colte ai tempi di Gesù studiavano la Bibbia ma non ricevevano Gesù non ricevevano Dio non ricevevano la parola di Dio allora che cosa serve studiare 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 e non mettere poi dopo in pratica quello che viene studiato e di fatti quando Gesù nacque gli studiosi di quel tempo sapevano benissimo dove Gesù doveva nascere lo insegnavano agli altri ma non ebbero l'incontro con Gesù non andarono ad adorare il bambino Gesù non ci andarono ma lo insegnarono agli altri allora la Bibbia insegna delle cose è vero ma insegna di incontrarsi di andare da colui di cui la Bibbia testimonia allora volevo mettere in evidenza il fatto che è buono avere nel proprio cuore un vero spazio per il nostro creatore avere lo spazio per colui che Dio ha mandato cioè Gesù Gesù il re della terra l'autorità il re di Israele il re che doveva regnare e regnerà su Israele e su tutto il mondo il re Gesù era il re ed è interessante che quel re buono entrò in caso di Marta e Maria e che cosa ci fa vedere che Gesù era disposto a dire delle buone parole e le disse a Maria ma Marta era impegnata domanda ma oggi oggi quante persone sono disposte ad ascoltare il re dei re cioè Gesù quanti sono disposti ad ascoltarlo perché Gesù disse io vi manderò un altro me stesso il Consolatore cioè lo Spirito Santo quanti oggi sono disponibili ad ascoltare ciò che lo Spirito Santo dice lo Spirito di Gesù lo Spirito del re dei re del re della terra dell'autorità della terra stabilita da Dio cioè Gesù forse noi non ci rendiamo conto del fatto che Dio è veramente grande ma oltre ad essere grande è anche generoso è anche amore e vuole arricchire la sua creatura ma come può arricchirla se la sua creatura non ha tempo per lui non gli dà un pochettino di spazio Gesù entrò in casa di Marta e Maria e Maria ebbe dello spazio per Gesù e fece bene perché ricevette in casa sua il re dei re colui che era buono colui che aveva l'autorità e Gesù disse ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra in quel momento ancora non aveva ricevuto ma il suo destino era proprio questo di ricevere autorità ogni potestà disse Gesù mi è stata data in cielo e sulla terra e Maria ricevette Gesù e Gesù gli disse ha scelto la buona parte che non le sarà tolta perciò possiamo benissimo dire che Dio è buono però noi potremmo essere così cattivi da non riceverlo e nella realtà essendo così cattivi da non riceverlo siamo cattivi verso noi stessi perché in questa maniera ci priviamo di quelle benedizioni che lui sarebbe disposto a darci c'è un passo che dice io onoro quelli che mi onorano cioè Dio disse proprio così non è un semplice passo Dio disse io onoro quelli che mi onorano e onorarlo significa riceverlo significa ascoltare i suoi discorsi le cose che lui vuole dire a noi personalmente direi che è interessante che la Bibbia insegna insegna che il creatore del cielo e della terra si può occupare proprio proprio di noi può venire proprio da noi se Gesù entrò in casa di Zaccheo è perché Zaccheo era veramente disponibile a riceverlo e Gesù poté parlare in quella casa poté parlare a Zaccheo e fu beato ma poniamoci la domanda ma non è che Dio potrebbe parlare anche a noi oggi non è che Dio potrebbe avere delle parole per noi oggi colui che ha parlato nella Bibbia che ha fatto vedere che parlava alle persone non è che potrebbe avere anche delle parole per noi e se ha delle parole per noi e che noi siamo disposti ad ascoltarle le sue parole non potrebbero essere anche proprio spirito e vita quando Dio parla le sue parole non potrebbero essere veramente spirito e vita c'è un qualcosa che ci fa bene a noi allora ci sono vari esempi nella Bibbia che io ogni tanto cito dove si vede chiaramente che le persone che ascoltavano Dio ascoltavano una parola speciale capivano che stavano ascoltando delle parole speciali come ho citato tante volte due persone che erano sulla via di Emmaus compresero che le parole di Gesù erano parole speciali Giobbe comprese che la parola di Dio che le cose che Dio gli diceva erano delle parole speciali erano delle parole che contenevano la vita che davano vita Maria nell'ascoltare Gesù Gesù gli disse ha scelto la buona parte che non le sarà tolta Maria sapeva che le parole di Gesù erano delle parole di vita che erano spirito e vita ma il punto è questo abbiamo noi del tempo dello spazio del tempo che dedichiamo veramente a Dio permettiamo a Dio di poterci parlare o siamo impegnati Gesù quando era qui presente sulla terra molte persone erano impegnate e non erano disponibili ad ascoltare la sua parola non erano pronte ovviamente non tutti è chiaro però è Dio che ci parla nei Vangeli ci fa vedere che le cose stavano così e che potrebbero stare così anche oggi che magari a uno gli piace sentire tante cose magari studiare ma non accettano di ascoltare la parola di Dio Dio sa benissimo Dio conosce benissimo se uno è disposto ad ascoltarlo allora Dio conosce benissimo Dio è onnipotente conosce tutti gli uomini conosce che cosa noi abbiamo nel cuore vede se noi abbiamo nel cuore il desiderio di ascoltarlo e nella verità Dio vuole che noi lo ascoltiamo perché Dio è amore ama tutte le sue creature tutte proprio tutte Dio ama tutte le sue creature però lui purtroppo sa benissimo che non tutte le sue creature accettano i suoi discorsi anzi in dei casi lui sa bene che viene criticato Dio sa benissimo quando lui è criticato addirittura viene criticato il creatore del cielo della terra delle stelle dei pianeti viene criticato però io direi che è un bel dono il fatto di poterlo ascoltare e questo messaggio di oggi credo che debba servire che uno diventi disponibile a Dio voglio dire che è importante ascoltare i discorsi di Dio quello che Dio ha da dire non ha tanta importanza ascoltare i discorsi degli uomini perché è la parola di Dio che è una parola che dà vita sono le parole di Dio che sono spirito e vita e Dio sa molto bene sa molto bene se vengono ascoltati i suoi discorsi le sue parole Gesù sapeva molto bene che Maria era disposta ad ascoltare ma sapeva anche che Marta aveva delle idee diverse ma avendo delle idee diverse si privò di quella buona parte che poteva avere anche lei allora è buono per davvero avere del tempo del tempo non per studiare la Bibbia non per ascoltare degli insegnamenti umani è buono avere del tempo per l'autore della Bibbia perché l'autore della Bibbia fa capire che l'autore della Bibbia esiste cioè la Bibbia testimonia e fa comprendere che l'autore della Bibbia che è ispirata da Dio Dio è vivente e parla e ovviamente l'autore della Bibbia utilizza la Bibbia spiega nella Bibbia le cose che lo concernono ma l'autore della Bibbia l'autore della Bibbia gli interessa che noi ascoltiamo l'autore della Bibbia che è l'autore del cielo e della terra e anche il nostro autore cioè colui che ci ha creati e Dio vuole che noi ci ricordiamo di Lui lo vuole e ciò è scritto Dio vuole che noi creature di Dio ci ricordiamo di Dio il nostro creatore e se noi ce ne ricordiamo per davvero se noi diciamo dov'è Dio il mio creatore potremo ascoltare la sua parola ed ascoltando la sua parola avremo dei canti di gioia avremo dei canti di gioia allora Dio vuole proprio che noi abbiamo dei canti di gioia il punto è questo qui Dio gradisce la nostra prosperità sì Dio gradisce la nostra prosperità Dio non vuole che noi ci previamo della prosperità che noi possiamo avere grazie a Lui altrimenti Gesù non avrebbe detto a Maria che aveva scelto la buona parte che non sarebbe stata tolta non è specificato che cosa sia quella buona parte ma so che di sicuro è una cosa molto buona so che è qualcosa di cui fa parte della vera prosperità il fatto che Maria accettò di ascoltare la voce di Gesù ebbe una buona parte la buona parte di cui Gesù dice che non le sarebbe stata tolta e credo mi avrebbe da pensare che la buona parte era proprio la presenza di Dio per lei ed è un grandissimo dono avere la presenza di Dio nella nostra vita è un grandissimo dono avere la presenza di Dio perché in un salmo viene detto che vi sono gioia e sazietà nella tua presenza allora credo che sia buono dichiarare far sapere che c'è qualcosa di molto buono e questo qualcosa di molto buono è la presenza di Dio perché nella presenza di Dio vi sono gioia e sazietà nella presenza di Dio ci sono dei canti nella presenza di Dio c'è gioia c'è pace c'è allegrezza c'è quella buona parte che non viene tolta credo che ci stia bene anche quel passo che è all'inizio del Vangelo di Giovanni dove viene detto è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto però tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di essere figli di Dio e se uno ha il diritto di essere figlio di Dio vuol dire che ha Dio come padre vuol dire che ha Dio come padre e può vedere a Dio ovviamente con gli occhi della fede in questo tempo allora non gradivo fare un messaggio troppo lungo molto lungo ovviamente mi sta bene muovermi sempre nella volontà di Dio però credo che il punto principale sia proprio questo il nostro atteggiamento nei confronti di Dio se noi accettiamo di avere un tempo verso Dio nel quale permettiamo a Dio di parlarci se noi permettiamo a Dio di poter parlare a noi personalmente e lui sa benissimo che cosa ci vuole dire lo sa benissimo Gesù sapeva benissimo che cosa voleva dire a Maria e credo che erano proprio delle parole buonissime e come ho detto voglio avviarvi verso la conclusione la chiusura però vorrei che si riflettesse sul fatto ma se noi se noi avessimo in realtà ce l'abbiamo la possibilità che Dio il nostro creatore possa parlare a noi non conviene forse dare a Dio questa possibilità che lui ci possa parlare non ci conviene forse anche a noi se è scritto chi mi trova trova la vita significa che chi accetta di ascoltare la parola di Dio ha vita questo è quello che accadde anche a Pietro che Pietro non avrebbe detto signore ma a chi ce ne andremo noi tu hai parole di vita perciò il fatto di ascoltare la parola di Dio la voce di Dio si può essere partecipi della vita si può essere vivificati perché è Dio che ha l'autorità su tutto e tutti e Dio avendo l'autorità su tutti e tutti su tutto e tutti se ha delle parole di vita verso di noi sarà vita e vita allora è Dio che ci fa vedere nella Bibbia che lui è vivente e che noi potremmo ascoltare la sua parola quello che conta è veramente ascoltare la sua parola e come ho detto prima Dio sa molto bene quando parla e sa molto bene chi sono coloro che lo ascoltano e chi lo ascolta avrà dei canti di gioia chi ascolta Dio avrà dei canti di gioia credo che sia buono proclamarlo dirlo perché è la verità perché è Dio che l'ha detto perché lui ha dichiarato nessuno dice dove è Dio il mio creatore che nella notte concede dei canti di gioia nella notte dove tu non vedi niente dove è tutto buio se tu dici dove è Dio il mio creatore lui parlerà e la sua parola produrrà dei canti di gioia se uno ascolta Dio avrà dei canti di gioia le due persone che erano sulla via di Emmaus ebbero dei canti di gioia Maria ebbe dei canti di gioia Giobbe ebbe dei canti di gioia tutti quelli che accettano di ascoltare la voce di Dio avranno dei canti di gioia avranno dei canti di gioia ora sto pensando che uno ha dei canti di gioia anche proprio sul fatto che i nostri peccati sono stati spiati mediante all'agnello ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Gesù ha pagato per i nostri peccati perciò il peccato non è un problema perché Dio che ci ha tanto amato da pagare per i nostri peccati e perciò si potranno avere dei canti di gioia in Cristo Gesù Amen Prendi la mia vita Prendi la Signor e la tua fiamma bruci nel mio cuore tutto l'esser mio vibri per te sì mio Signore e divino fonte di vita di pace e amor a te io grido la notte e il Dì od il mio pianto e mi sostiene il tuo timore colmo d'ogni bene dall'infido male guardami Signor vieni mia gioia se la notte nera vela gli occhi miei si la mia stella splendida anzi a me fonte di vita di pace e amor a te io grido la notte e il Dì od il mio pianto e mi sostiene il tuo timore colmo d'ogni bene quando Signore giunto sarò la notte nera nella tua gloria risplenderò insieme ai santi puri di cuor per non lasciarti eterno amore fonte di vita di pace e amor a te io grido la notte e il Dì od il mio pianto e mi sostiene il tuo timore colmo d'ogni bene il tuo timore colmo d'ogni bene l'ho